Ciao famiglia, il 13 maggio Mission Rosario e Mater Fatima ci uniremo a pregare insieme ad altri fratelli e sorelle di più di 100 nazionalità alla terza versione del Rosario Mondiale chiamata Un Fiore a Nostra Madre. Vi invitiamo a collegarvi. Prepariamo il cuore per questo giorno in cui ricorderemo la prima apparizione di Maria Vergine a Fatima. Ci vediamo! Vi invitiamo a pregare la pregazione del peccato di Gesù e il corpo immaculato della Vierge Maria. Vorre questo evento, aiuti noi a riempire il corpo della Vierge con gioia. Vi invitiamo a pregare un saluto a Maria e vi donna una gloria. Non dobbiamo esqueci che la nostra madre è là per aiuto. Ci saranno i milioni di rosari che ci saranno alla nostra madre. In questa offerta unica, abbiamo chiesto di una speciale intercessione. Insieme, come ragazzi e ragazzi, uniti in fear, abbiamo chiesto di una speciale intercessione di pazienza, libertà e la vita in all of our countries. To really honor Our Lady of Fatima, we need to gather millions of Hail Marys that will mark this feast day. For this reason, we invite you to pray at Hail Mary, then take a selfie with the rose and or with the rosary and or with an image of Our Lady. Then open Mater Fatima's website, complete the questions on screen, Upload Your Selfie, then we will share it on our social medias. L'evento sarà trasmesso attraverso più di 400 media tradizionali ed online. Abbracciamo nostra madre con amore e fedeltà. Uniamoci come la Chiesa Cattolica che siamo. Vi aspettiamo. Ciao! Ciao! So, come join us! So, come join us! Are you running Alhighknowiki? You're the same, come join us! Wow and come join us!